Non abbiamo finito ieri sera. Mi farei cosa? Sapevo farla ridere, sapevo farla piangere, ma non ho mai imparato ad ascoltarla. Anna! Anna! Taxi! Taxi! Poi un giorno lei se n'è andata. E così, a poco a poco, quella mattina lei decise che non avrebbe più solo guardato. Lei avrebbe fatto girare la testa. Lei era libera. Anna! Anna! E adesso, per un momento, lei è stata di nuovo mia. Senza tempo, su peroniitali.com